Ciao ragazze, intanto colgo l'occasione per augurare a tutte voi buon anno, ringrazio perché non l'ho mai fatto le mie nuove iscritte e come promesso sto già ideando il mio primo G.W.A. per ringraziarvi dell'iscrizione e della presenza al mio canale. Allora, cosa vi voglio mostrare? Vi voglio mostrare un lavoro che ho finito questa mattina, che è stato per me molto significativo, poi vi spiego. È il mio primo lavoro con l'embrodery ed è un kit che ho acquistato alla fiera di Bologna da Creando con Azzurra. È il gufo, eccolo qua. Eccolo qui. Dovete accontentarvi di queste riprese perché sto girando ancora una volta con l'iPhone e la luce è quella che è, visto che poi oggi qui a Varese piove. Niente, torniamo al mio gufo. Il mio gufo, che l'ho chiamato Maya, visto che quest'anno è l'anno del 2012, tutte le varie catastrofe e poi, diciamo, avendo fatto il viaggio di nozze pochi mesi fa in Messico, mi piaceva appunto richiamare la mia esperienza, richiamare, oppla, dare un nome al mio gufo che, diciamo, centrasse con questa cosa significativa che ho avuto nella mia vita. Vabbè, sto blatterando, quindi vado avanti. Niente, questo gufino l'ho realizzato appunto con l'embrodery, non è ancora magari perfettissimo perché, vabbè, insomma, è il mio primo lavoro, però sono molto orgogliosa di me stessa per come l'ho realizzato e, insomma, a me piace veramente tanto. Spero che mi porti fortuna e, niente, veniamo del motivo, del perché l'ho realizzato. Ho scelto proprio, appunto, il gufo perché, come alcuni di voi sanno, io al 13 dovrò fare un'operazione, per cui ho una FIFA tremenda e, niente, quindi l'ho realizzato per me, per portarmi fortuna e, niente, insomma, a me piace tanto, è proprio carina, visto che è una gufetta. Niente, l'ho messo dentro una semplice catena, aspetta che ve la mostro, anche se, sinceramente, la catena poi dopo la dovrò, la voglio rivedere in qualche modo. Non è detto che poi lo lascio proprio così, in questa catena proprio semplice, voglio aggiungere qualche anellino, insomma, rendolo particolare appena compro delle catene da brillanti creazioni. E, niente, insomma, torniamo a noi. Questo è il dietro. Questo è il dietro. Appunto, come dicevo, sicuramente per chi lavora in Brodery da tempo noterà qualche piccola imperfezione, però, vabbè, diciamo, io sono contenta così. Sono contenta così perché è il mio primissimo lavoro, non pensavo neanche di riuscirci ed è spettacolare. Proprio la luce che emana quando ce l'hai addosso, quando l'abbiamo addosso, insomma, io parlo anche per chi magari l'ha già fatto, è veramente bello. E poi, come vi ho detto, è un portafortuna. È il mio piccolo portafortuna. E, niente, insomma, ragazze, vi ho mostrato il primo lavoro fatto nel 2012. Vi auguro a tutti buon anno. E, niente, sto realizzando altri lavori, ve li mostrerò appena terminati. E, niente, per ora vi mando un bacio. Grande, grande e saluto la mia nuova amica Laura. E, niente, alla prossima. Ciao!